ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerà i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco di glocular omnivision italia srl ultimo aggiornamento 20 luglio 2021 cosa di glocular confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere di glocular durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cosa di glocular di glocular ha un farmaco a base del principio attivo diclofenac sodico appartenente alla categoria degli analgesici fans e nello specifico antinfiammatori non steroidei è commercializzato in italia dall'azienda omnivision italia srl di glocular può essere prescritto con ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica confezioni di glocular 0,1 per cento collirio 5 ml di glocular 0,1 per cento collirio soluzione 30 contenitori monodose 0,3 ml informazioni commerciali sulla prescrizione titolare omnivision italia srl ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica classe c principio attivo diclofenac sodico gruppo terapeutico analgesici fans forma farmaceutica collirio indicazioni stati infiammatori eventualmente dolorosi e non su base infettiva a carico del segmento anteriore dell'occhio in particolare per interventi di cataratta posologia posologia adulti secondo prescrizione medica controindicazioni ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6 1 come altri agenti antinfiammatori non steroidei il prodotto ha controindicato in pazienti nei quali si sono verificati dopo assunzione di acido acetilsalicilico o altri farmaci inibitori della prostaglandine sintetasi accessi asmatici orticari oriniti acute avvertenze speciali e precauzioni di impiego in presenza di infezione o qualora esista il rischio deve essere instaurata contemporaneamente al di glocular una terapia appropriata ad esempio antibiotici di glocular molti dose contiene benzalconio cloruro benzalconio cloruro qua vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione non si conoscono interazioni con altri farmaci nel caso di applicazione locale oculare vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it assumere di glocular durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere di glocular durante la gravidanza e l'allattamento gravidanza sebbene il farmaco non abbia causato anormalità nello sviluppo fetale acconsigliabile utilizzare il prodotto nelle donne in stato di gravidanza accertata o presunta solo nei casi di effettiva vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non ci sono presupposti n a copyright evidenze che il farmaco possa modificare la tensione i tempi di reazione a è comunque consigliabile evitare l'installazione del farmaco durante la guida di autoveicoli o l'impiego di macchinari effetti indesiderati di seguito sono riportati gli effetti indesiderati di di glocular organizzati secondo la classificazione sistemica organica medra sono state utilizzate le seguenti scale di valori di frequenza molto comune un decimo comune vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it sovradosaggio in caso di sovradosaggio che si manifesta mediante gli effetti indesiderati già descritti interrompere la terapia proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica farmaci oftalmologici barra antinfiammatori non steroidei codice atc s01bc03 il diclofenac a un farmaco antinfiammatorio non steroideo con caratteristiche di polarità che gli conferiscono una buona diffusibilità nei tessuti ed proprietà farmacocinetiche gli studi di farmacocinetica dopo applicazione oculare nel coniglio dimostrano che il farmaco penetra rapidamente la cornea e raggiunge i vari distretti oculari già dopo 20 minuti si notano concentrazioni dati preclinici di sicurezza i dati sperimentali relativi alle prove di tossicologia effettuate con il collirio di glocular e sul principio attivo di clofenac mettono in evidenza la scarsa tossicità del composto sia a livello generale elenco degli eccipienti diclocular multidose l lisina monoidrata acido borico sodio borato sodio cloruro gliceril polietilenglicol ericinoleato benzalconio cloruro sodio edetato acqua per preparazioni iniettabili diclocular monodose gliceril polietilenglicol ericinoleato l lisina farmaci equivalenti i farmaci equivalenti di diclocular a base di diclofenac sodico sono diclocular dicloftil collirio visunac voltare noftabac voltare nofta fonte foglietto illustrativo aifa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato